Buongiorno dalla redazione web della città di Torino, benvenuti al primo appuntamento con la nostra rassegna quotidiana delle notizie dal web della città. Vi ricordo che il secondo appuntamento sarà oggi pomeriggio alle 16 e 15. In questo momento noi siamo in diretta sul canale Ustream della città di Torino, a partire dalle 10 lo saremo disponibili anche sul canale YouTube, vedete in questo momento in sovrimpressione gli indirizzi per poterci raggiungere. Passiamo subito a vedere la situazione del meteo in città, previsioni meteo a cura dell'Arpa Piemonte, vi ricordo che le potete trovare all'indirizzo in sovrimpressione e direttamente nella rilevazione in home page sul sito della città che vedete qui ora in sovrimpressione. L'ultimo dato è delle 8 e 20, abbiamo una temperatura di poco superiore ai 15 gradi, un'umidità molto alta del 97%. Questo porta delle previsioni per il corso della giornata, nel pomeriggio, sera e notte, che ci danno una situazione molto tranquilla, tutto sereno. Passiamo a vedere le notizie di Torino Click, l'agenzia quotidiana delle notizie della città di Torino, pubblicata ogni sera, è disponibile in formato PDF all'indirizzo che vedete ora in sovrimpressione. Noi ci occupiamo del numero pubblicato ieri sera, l'edizione di ieri sera delle 18 e 30, ci collegheremo poi nel pomeriggio durante la nostra secondo appuntamento con le notizie dalla città, con la redazione di Torino Click per avere le anticipazioni sul numero in uscita questa sera. Bene, per quanto riguarda il numero attualmente disponibile dalla home page del sito della città, subito una notizia di pubblica utilità perché purtroppo ieri intorno alle 12 e 20 c'è stato un incidente mortale in corso Giulio Cesare all'altezza dell'angolo con via Auxilia dove ha perso la vita una donna cinquantenne, è stata una Fiat Bravo che viaggiava ad alta velocità. La Polizia Municipale è alla ricerca di testimoni dell'accaduto, chiunque avesse visto qualcosa si può rivolgere al nucleo infortunistica della Polizia Municipale al numero 011 44 26 510. Ripeto, 011 44 26 510. Per quanto riguarda gli altri articoli di Torino Click abbiamo una serie di ordinanze per quanto riguarda la convivenza civile in città. Ieri nella prima riunione della giunta dopo la pausa estiva è stata emanata un'ordinanza che prevede che nel perimetro delle vie Nizza, Goito, Bertollè e Corso Vittorio Emanuele II all'interno di questo quadrilatero è vietato consumare in strada bevande alcoliche o alimenti e abbandonare contenitori e cartoni al di fuori dei cassonenti dei rifiuti. Ai trasgressori si è applicata una sanzione che va dai 25 ai 500 euro. Questa è una delle ordinanze generali che il sindaco firmerà nell'ambito dei temi della convivenza civile, altre sono già state firmate e sono previste anche delle specifiche ordinanze nelle prossime ore per singoli esercizi commerciali della città. Un'altra notizia riguarda la possibilità di andare in barca sul Po perché la giunta ha approvato un progetto preliminare per estendere la navigazione lungo il Po dando così la possibilità alle imbarcazioni di superare la traversa Michelotti, le rapide che sono sul corso del fiume all'altezza del Parco Michelotti e quindi questo permetterà di rendere il fiume navigabile per i 12 km circa del territorio del tratto cittadino. Si supereranno le rapide realizzando una conca sulla sponda destra e invece uno scivolo per le imbarcazioni in una motore sul lato sinistro. Sono previsti anche alcuni nuovi attracchi, uno in zona moto-velodromo, uno nella zona Sassi-Superga in corrispondenza della cremaliera e un altro presso l'ex manifattura tabacchi. Infine l'ultima notizia da Torino Click è quella relativa all'assedio di Torino da parte dei francesi perché ricorre nel primo fine settimana di settembre il 302esimo anniversario della liberazione di Torino dall'assedio francese del 1706. Sono in programma una serie di manifestazioni per questa celebrazione. Si comincia sabato 6 settembre alle 15 al Museo Pietro Micca, poi si prosegue nella giornata di sabato al Duomo di Piazza San Giovanni con la cerimonia della benedizione delle bandiere che è prevista per le 17.30 e poi alle 18 la messa in Duomo in ricordo del generale Guido Amoretti. Alle 19 ci sarà una sfilata per via 4 marzo che si concluderà poi con la presa agli onori al monumento del Principe Eugenio in piazza Palazzo di Città. Il giorno dopo poi domenica 7 settembre alle 15 ci sarà una sfilata storica che dal Museo Pietro Micca arriverà ai giardini reali e alle 18.15 si concluderà il tutto con una salve di cannone e gli onori all'eroe Pietro Micca. Andiamo a vedere le notizie dal web della città e allora vi ricordo una notizia che sarà ad attualità nei prossimi giorni, in particolare a partire dal 1 settembre perché dal 1 settembre al 15 ottobre c'è la possibilità di entrare nella graduatoria per ricevere un mutuo agevolato per i giovani residenti a Torino al di sotto dei 35 anni di età e con un reddito familiare inferiore a 37.466 euro. Trovate nella prima notizie non peggio della città di Torino, le informazioni ulteriori per poter accedere a questo mutuo. Andiamo a dare un ultimo sguardo alla città allora attraverso le nostre webcam come al solito partiamo da quella di piazza Palazzo di Città, vedete un'inquadratura del Palazzo Civico nel sole di questa mattina, direi una situazione molto molto tranquilla. Ci spostiamo sulla rotonda autostrade verso la Torino-Milano dove la situazione del traffico anche qui è sebbene superiore ai giorni scorsi abbastanza tranquilla. La regione Piemonte ci offre questa vista di Piazza Castello con Palazzo Madama e poi infine il Consorzio 5T, l'inquadratura della rotonda di Piazza Derna verso il centro città dove non ci sono problemi di traffico. Bene, da parte mia non rimane che ritornare in onda per darvi appuntamento ad oggi pomeriggio alle 16.15, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.